Ehi, Duilio, ascolta, cosa hai oltre al tiramisù come dolce? Uno tiramisù! Quanti tiramisù! Un tiramisù, due tiramisù, tre tiramisù, quattro, semmo tiramisù! Vai! Manca della Eero, mi so se la Yankee, cittura 5 punti, ta' sada il cesso, mammo M&P, M&P, M&P! Scooter, servi, e frese fa cesso, M&P! Scooter! Uh.... Power, Nucleo, strutti oscidenza melli, il semafro intervista, da estro Giove Melli, piralli disconsiglio, bridge e tose link! Tuo soccetto l'ora per le telesprogrid! E' navigatore, mettete in cuoio, il condizionatore, mettete in cuoio, da' fondoscri, mettete in cuoio! E si, il giatore è mio, sono messo in cuoio, benissimo Scooter, servi, che fa sempre il cesso, benissimo Servi, scuter, c'è che è già l'ingresso Ho portato appunto da benissimo, mi ha fatto l'elaborazione, mi ha portato a 20kb Per 20kb, sarà 120kb E che cazzo ho visto, 120kb, neanche a Ferrari di Alunso che ha 120kb 120kb, maestà Uuuuuh, benissimo Scooter, servi, che fredda il palcesso, benissimo Servi, scout, il garbo amare all'ingresso, benissimo Scooter, servi, che fredda il palcesso, benissimo Servi, scout, c'è che è già l'ingresso, benissimo Benissimo, scuter, servis Ero a Trieste Vetti Padova 59 80 64 37 9 Ciao Andrea, sono Fernando, mi ha detto Simone che puoi portare la Ferrari fino a 20 CV Potresti farmi il lavoro per il Gran Premio del Bahrain, grazie Ascoltami a me, Fernando, che ho 150 anni Ti bisogna che ti togli un bel lap di 18 cilindri In maniera che ti fai da combattere anche i cancari Che la macchina che va con i latini che vuoi Che tu capisci Sono il telefono qua, l'unico, venga Ciao Andrea Ciao 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 Ciao